E il mio appello ai Novax, carissimi Novax, voi senz'altro mi conoscete perché io sono Serafino Massoni, eccomi qua, sono Serafino Massoni, mi conoscete perché opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion, YouTube, addirittura su YouTube io ho circa 11 milioni di visualizzazioni, perché abbia 81 anni su YouTube io ho quasi 11 milioni di visualizzazioni, posso dire di essere uno degli opinionisti più potenti del web, un potentissimo influencer, allora io mi sono occupato del virus Covid-19 sin dal gennaio del 2020, quando apparve in Europa, in Asia era apparso un po' prima, alla fine del 2019, qua da noi arriva il gennaio del 2020 e siccome l'umanità non aveva delle difese contro il virus Covid-19, io nei miei primi video dissi che non ci si doveva allarmare, si doveva accettare la situazione, si doveva lasciarlo pascolare liberamente il virus Covid-19, chi ce la faceva con le proprie forze bene, chi non ce la faceva pazienza, tanto siamo tutti destinati a morire, si sarebbe comunque raggiunta l'immunità di Gage, però poi l'umanità ha scoperto i vaccini contro il contro il virus Covid-19, no, allora io ho fatto una conversione di rotta, ho detto beh, ci sono i vaccini, allora utilizziamo questi vaccini, perché è chiaro che l'umanità lo sa che deve morire, l'umanità lo sa che deve morire, però l'umanità vuole morire il più tardi possibile e tutti noi cerchiamo di procrastinare la morte, tutti, 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 tutti cerchiamo di procrastinare la morte, tutti quanti, tutti, nessuno escluso, anche nelle peggiori situazioni cerchiamo sempre di allontanare, si dice procrastinare, procrastinare la morte, e così io mi sono fatto, io che ho 81 anni in compiuti, mi sono fatto le mie due bravi dose di Pfizer, poi mi sono fatto pure il Green Pass, ce l'ho sul mio bellissimo smartphone, Green Pass, e quindi conti, ci sono fatti vaccinare pure i due potentissimi leader popolari, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ci sono fatti vaccinare tutti e due, lo lo è, per cui ci hanno anche il Green Pass, addirittura di Giorgia Meloni si può dire che oltre a essere una leader, una potentissima leader popolare, eppure una potentissima leader rivoluzionaria a Giorgia Meloni, perché non fa parte della mucchiata governativa, in fin di conti, anzi ci sono fatti vaccinare prima di me, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, prima di me, io ho 81 anni compiuti. Allora, io siccome sono un uomo buono, ho intenzione di salvarvi, vi vorrei salvare, cioè non voglio che voi, Novax, abbiate a finire in terapia intensiva, o addirittura a morire, beh, sì, dobbiamo tutti morire, ma tanti possibile, non voglio che voi abbiate morire per il virus, morirete per un altro motivo, dopo, dopo. Quindi ho pensato di offrire ai Novax, che vogliono venire salvati da Serafino Massoni, di offrire ai Novax gratuitamente una copia di questa mia ultima opera storico-mitologica, costa poco, costa 14 euro, vedete, solo 14 euro, ma io la regalo, come fare per ottenere gratuitamente questa mia opera, anche con spese portare al mio carico, e niente, in calcio a questo mio video, il Novax, che ha deciso di salvarsi, quindi ha deciso, quindi ha fatto, è andato a fare due dosi di vaccino e si è procurato il Green Pass, come Serafino Massoni, come Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, allora l'ex Novax, che è diventato Provax, che si è fatto vaccinare, che ha il Green Pass, scrive un commento in calcio a questo video, scrive nome e cognome, nome e cognome precisi, poi sotto il preciso recapito postale, recapito postale preciso, e poi la dichiarazione, dichiaro che, prima di ascoltare il tuo appello Serafino Massoni, io ero un convinto Novax, però dopo aver ascoltato il tuo appello e la promessa del tuo dono, io da Novax, sono diventato Provax, mi sono fatto vaccinare e ho anche il Green Pass, tutto qua, tutto qua, appena io ho ottenuto il vostro commento, così come ve l'ho descritto in questo video, io mi metto in moto, vado in libreria, mi procuro le copie necessarie di quest'opera e le spedisco ai vari indirizzi postali che mi sono pervenuti. a carico mio, rimane il costo del libro, le spese postali. Va bene cari amici Novax? Va bene cari amici Novax? Io faccio di tutto per salvarvi, va bene? Faccio di tutto perché io sono questo qua, sono Serafino Massoni, ho 81 anni e sono uno dei più potenti opinionisti del web. Ok cari amici Novax? Ok, ok, ok.